Grazie, grazie Mr. President. Cercherò di essere veloce, mi scuso con gli interpreti. Noi rappresentanti degli enti territoriali vogliamo oggi contribuire a costruire un ordine europeo internazionale più eco, basato su regole standard elevati, per raggiungere una maggiore coesione sociale e solidarietà, per un più ambizioso equilibrio fra globalizzazione e resilienza territoriale, fra libero mercato e welfare sociale. Un ordine più capace di favorire la cooperazione fra i molti Paesi con interessi, culture e livelli di sviluppo diversi, per conciliare i mezzi della globalizzazione, l'apertura e il progresso tecnologico con i fini, protezione e aumento del benessere dei cittadini. L'Europa e molti dei suoi Stati, noi, livelli locali, abbiamo spesso giocato un ruolo positivo in questa direzione, ma le regole non sono ancora tutte scritte, soprattutto verso l'esterno. L'ordinamento mondiale è ancora da implementare e non ci sono sufficienti condizioni per contrastare l'evasione fiscale, la corruzione, l'estrazione delle ricchezze, i flussi finanziari illeciti, le sovvenzioni pubbliche paternalistiche e, come oggi ha detto anche il Presidente Tusk, gli hooligan commerciali, il dumping. Abbiamo quindi un dovere oggi, abbiamo la necessità di avanzare nuove e più efficaci, regole che abbiano la capacità di insistere e di creare dei momenti utili sia per l'ordinamento europeo sia esterno, sia per influire su regole e pattizie, al fine di garantire il diritto dei territori alla globalizzazione, cioè amplificare gli effetti positivi, ma anche sostenere una resilienza territoriale, cioè capace di ridurne quegli negativi. Avanzano nazionalismi, sovranismi, populismi, protezionismi. A questi noi diciamo no. Le luci e le ombre della globalizzazione, il documento della Commissione che commentiamo è onesto, è sincero, è maturo su questo tema, è anche critico, ma sicuramente la soluzione non può essere la chiusura. La riduzione del 10% degli scambi commerciali genererebbe una riduzione del 4% del reddito nazionale europeo. Non è quindi questa la strada. Il neoprotezionismo non protegge. Ma abbiamo anche un sistema piuttosto in evoluzione. La globalizzazione cambia e ha un'incidenza territoriale, quello che più interessa a noi, ai comuni, alle regioni, fortemente differenziata, asimmetrica. Lo conferma anche il settimo rapporto sulla coesione presentato proprio ieri. Abbiamo quindi bisogno di risposte molto differenti sui differenti territori, più forti, più globali, più flessibili, ma non cieca ai luoghi. Non cieca ai luoghi. E abbiamo bisogno di farlo insieme. L'abbiamo detto, l'ha detto il Presidente Lambert, l'abbiamo detto con Tusca all'inizio. Abbiamo bisogno di farlo insieme, ai diversi livelli di governo, i diversi livelli di governo con le nazioni e le nazioni insieme. Perché la globalizzazione non sia a comandare sulle istituzioni, ma le istituzioni a dettare le regole della globalizzazione. Noi ne proponiamo alcune, alcune per sottolineare l'effetto di politiche nelle quali già crediamo, altre nuove sul fronte esterno, potenziare le risposte anti-Dambi, migliorare la trasparenza e l'inclusività nei confronti di tutti gli accordi commerciali verso l'esterno. Anche la scorsa settimana ne abbiamo chiusi alcuni importanti e ce ne aspettano altri. Rispettare gli obblighi internazionali in materia di protezione sociale dei lavoratori e dell'ambiente. Garantire condizioni di reciprocità anche negli appalti pubblici, quello che ci interessa. Inserire la trasparenza, l'equità e l'efficienza in campo fiscale, fra le priorità della politica commerciale. Approfondire l'approccio del made-in, non solo per quello che riguarda l'agricoltura. Impostare un'equa tassazione digitale, una novità di cui si sta discutendo molto in Europa, una web tax capace di generare reddito senza alterare la concorrenza, ma di generare reddito nei luoghi. Inserire strumenti, e su questo sottolineo molto la portata innovativa e spero nel follow-up che da questo parere possa derivare in prospettiva. Inserire strumenti per misurare l'effetto della globalizzazione nei diversi luoghi, in modo tale da poter impostare accordi commerciali che ne tengano conto. E questo è un ruolo che può svolgere a pieno e bene il Comitato delle Regioni. Sul fronte interno abbiamo tre indirizzi di proposta, preventivo e proattivo, di mitigazione degli effetti e chiaramente di partecipazione democratica. Crediamo nel pilastro sociale, lo discuteremo domani con Mauro Dattis, un importantissimo parere che si collega a questo. Vanno letti insieme, come vanno letti con gli altri paper che attuano il libro bianco di Juncker. Non abbiamo bisogno di una globalizzazione dell'indifferenza, abbiamo bisogno di risposte alle sofferenze, soprattutto in questo momento se vogliamo essere ancora Europa. E abbiamo bisogno di obiettivi vincolanti non solo sulle questioni economiche e finanziarie, ma anche sugli obiettivi sociali. Spesso gli enti locali, le regioni, i comuni sono stati lasciati soli nell'affrontare le crisi. E sulla migrazione, quella legale, abbiamo bisogno di essere più vicini ai territori, ai comuni che con dignità hanno saputo rispondere. Sulla competitività, un'ottima strategia industriale basata sul territorio, una strategia agricola più ecosostenibile, un rafforzamento delle politiche per l'innovazione, un potenziamento degli investimenti con la nettizzazione, la nostra richiesta più importante della quota di cofinanziamento sul patto di stabilità. Per le politiche territoriali, sottolineo questi ultimi due aspetti come ovviamente dal nostro punto di vista particolarmente rilevanti. Il patto di Amsterdam, l'agenda urbana, non deve restare in un cassetto. Lì ci sono i principi per combattere, per essere efficaci, anche per fronteggiare le nuove globalizzazioni, le periferie e i centri urbani. Urbact, azioni innovative, ne abbiamo molte messe in cantiere, siamo pronti. Sull'ITT faremo un parere per riformarlo. Una nuova politica europea per le aree rurali, su questo essendo di un comune di minori dimensioni, tengo moltissimo. Ci sono nuove differenze territoriali e dobbiamo essere attenti a non allontanarle ulteriormente. I link fra aree urbane, peri urbane e le città, le grandi città, gli agglomerati, devono essere rafforzati in modo positivo. La resilienza territoriale è tutto questo insieme, è un paradigma che deve pervadere il futuro delle politiche europee. E dobbiamo mitigare gli effetti, vado veloce, ovviamente potenziare il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione, più risorse agganciate al quadro finanziario, criteri flessibili e risposte più veloci con la sinergia con gli altri strumenti già in campo. E abbiamo bisogno di farlo con i nostri cittadini, in modo partecipato, democratico, a tutti i livelli. Non facendoci influenzare con quello che spesso alcuni attori economici influenti hanno come effetto sui media, ma con una trasparenza nell'informazione che ci sappia fa rispondere al meglio alle domande e avere risposte sempre più partecipate e valutazioni sempre più attente. Grazie a chi ha presentato gli emendamenti per buona parte raccolti. 39 abbiamo cercato di tener conto dei pareri di tutti, avete fortemente migliorato il testo grazie ai tecnici, grazie perché io credo che stasera daremo un contributo probabilmente, un contributo serio sicuramente, alla strada non solo per i mercati ma per i diritti alla globalizzazione.